Nell'anno che ha cambiato le nostre vite, abbiamo imparato che la ricerca scientifica è l'unica speranza davanti a malattie sconosciute e che ogni piccolo contributo al lavoro dei ricercatori è un bene prezioso. Oggi non solo credo nella ricerca Teleton, ma ci metto la firma con il mio 5x1000. Fallo anche tu.